Il comportamento dinamico della 458 Speciale in tutte le fasi eleva al massimo le emozioni di guida, permettendo di raggiungere e migliorare i propri limiti. La 458 Speciale offre la massima emozione nei percorsi misti impegnativi, caratterizzati sia da stretti tornanti in serie che da curve veloci con variazioni di pendenza. Cinque innovazioni tecnologiche contribuiscono a rendere questa vettura meritevole del nome speciale. Per l'area elettronica, il controllo di angolo assetto, SSC e la nuova strategia di cambiata. Per la parte e componenti, il nuovo impianto frenante e cargo ceramico frenco, gli pneumatici specifici Michelin Pilot Sport Cup 2 e le nuove sospensioni magnetoreologiche Frequency Shaped SCMA. Uno dei contenuti più innovativi della 458 Speciale è il controllo elettronico dell'angolo di assetto, SiSleep Angle Control, SSC. Utilizzato per la prima volta su una Ferrari, facilita il raggiungimento del limite prestazionale a tutto vantaggio delle emozioni di guida. Grazie a un nuovo accurato algoritmo che elabora accelerazione laterale, angolo di imbardata, angolo volante e velocità, l'SSC analizza istante per istante l'assetto della vettura e lo confronta con i valori ideali di riferimento, consentendo sovrasterzi di potenza più controllabili e ottimizzando allo stesso tempo la gestione della coppia motore attraverso il controllo di trazione F1 Track e ripartendo efficacemente la coppia del differenziale sulle due ruote motrici attraverso il differenziale elettronico e DIF. Tutto ciò consente in posizione race e CT off del manettino di sfruttare al massimo l'aderenza disponibile per incrementare la velocità in uscita curva, per raggiungere più facilmente il limite e per una maggiore consistenza nelle prestazioni. Il cambio F1 a doppia frizione adotta una nuova logica di controllo che incrementa il feeling di sportività di guida durante il cambio marce. Nella salita dei rapporti la strategia garantisce maggiore sportività riducendo il tempo di risposta al comando assicurando un anticipo dell'accelerazione longitudinale del 40% e un adeguamento dei giri motori più rapido del 20%. Anche la scalata è più rapida grazie alla strategia Fast Down Shift che riduce il transitorio dei giri motore del 44%. Per soddisfare le aumentate esigenze prestazionali l'impianto frenante Brembo è stato evoluto in tutte le sue componenti adattando le soluzioni installate sulla Ferrari. La 458 speciale è dotata di pinze Extreme Design, dischi di nuova generazione HT2 ad alta percentuale di silicio, pastiglie anteriori di dimensioni ridotte e in materiale ibrido HY per ottenere un maggior smaltimento termico e minor peso. Il risultato è una riduzione degli spazi di arresto meno 8% e una maggiore consistenza alle massime prestazioni. La vettura è equipaggiata con gli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2, specificamente sviluppati attraverso test congiunti. La mescola è ottenuta con additivi specifici per incrementare la performance e la ripetibilità dei tempi senza peggiorare l'aderenza sul bagnato. Il risultato è il 6% in più di aderenza senza peggiorare l'acquaplano. I cerchi da 20 pollici sono forgiati per una riduzione di peso di oltre 12 kg. Molto piatta nei transitori, la 458 Speciale è estremamente efficace e gratificante nei cambi di direzione più veloci e impegnativi. A questo comportamento contribuiscono gli ammortizzatori SCME FRS, dotati di doppio solenoide, nuova centralina e nuova software per l'aggiornamento del campo magnetico ogni millesimo di secondo. Il risultato è una più rapida risposta e un controllo più preciso. Grazie a questi contenuti tecnici, la 458 Speciale assicura una risposta ai comandi rapidissima a fronte di una ridotta attività sterzo richiesta, combinazione che garantisce un'esperienza di guida straordinaria. La vettura è infatti sempre estremamente reattiva e facile da portare al limite in ogni situazione. Grazie a tutti.